Buongiorno a tutti i lettori di Outofbit, vediamo oggi la recensione di OK Quick Charge 3.0 batteria portatile da 16.000 mAh Una batteria portatile è appunto realizzata da OK in grado di sfruttare la tecnologia del Quick Charge Capacità da 16.000 mAh quindi vi garantirà sicuramente numerose ricariche e appunto qui troviamo in alto la specifica del Quick Charge 3.0 Apriamo la confezione e vediamo cosa ci riserva questa scatola in cartone riciclato Batteria, scusate la confezione non è pari a nuova perché l'ho già utilizzata per alcuni test Manualini di istruzione, al di sotto c'è un cavetto micro USB per la ricarica Vediamo la batteria, sul retro troviamo tutte le specifiche tecniche Sappiamo che appunto il modello è il PBT9, 16.000 mAh, 5V per entrambe le porte Quella verde è dotata di Quick Charge a 2.4A, l'altra funziona a 2A Quindi sarete comunque in grado di ricaricare due dispositivi Sul fronte è presente una torcia accendibile appunto con il tasto di accensione presente qui sotto E la porta micro USB per la ricarica Cosa direi di questa batteria? A livello generico la batteria portatile di UK funziona molto bene Ricarica effettivamente gli smartphone con una ricarica totale di 16.000 mAh Quindi il valore è veritiero sicuramente Compatibile con il Quick Charge, due porte, il torcia Il prezzo è di 33,99€ La capacità è ottima quindi è un prodotto generalmente molto valido La fascia di mercato è abbastanza satura Quindi troverete anche altri prodotti dello stesso produttore a prezzi molto simili Funziona bene, ci ha soddisfatti L'ho utilizzata in campeggio per qualche settimana E devo dire che non ha mai dato alcun problema Ve la consiglio sicuramente Funziona bene e mi ha reso felice Mi ha reso felice perché le ricariche all'aria aperta fanno sempre comodo Soprattutto con queste batterie Da Vittorio Tiso per Out of Beat è tutto Vi ringraziamo per aver visto il video E vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale